we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite voglio parlarvi di alcuni elementi che sono saltati all'occhio per quanto riguarda la storyline di questa season 2 l'evento di mida e tanti piccoli dettagli ma voglio farvi vedere anche un video molto interessante che ci spiega come riuscire a fare un bel po di punti esperienza senza fare troppa fatica quindi livellare insomma il nostro pass battaglia prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere il video news di ogni giorno ma ovviamente anche una bella sbadilata di leaks e la domandina di oggi non può mancare ma te alla fine quale versione hai scelto di sky e sì perché ieri sono uscite le sfide il secondo mega blocco di sfide avventura di sky che ci portano appunto a scegliere la variante ombre o spettri devo dire che sono veramente tutte e meravigliosi o non ho ancora fatto la mia scelta ma credo che vado sugli spettri ho già preso tante skin e delle ombre questa qua degli spettri mi piace di più dimmi quella che hai scelto te qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e vanno alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere molto velocemente come ogni settimana una bellissima e chiarissima mappa che vi fa vedere in un colpo solo tutte le sfide e come completarle trovate comunque nel canale anche le soluzioni quindi fatevi un bello screen di questa mappa ci sono i punti della spada di sky gli elicotteri dove poterlo prendere per passare sotto i punti e tante altre piccole cose che comunque non sono assolutamente difficili per quanto riguarda appunto le challenge della settimana numero 8 ma andiamo avanti con il prossimo argomento perché ci sono delle cose interessanti se andiamo a vedere cos'è questa foto del cavolo exud questa foto qua ragazzi è un pezzettino ingrandito della stanza di sky e se guardiamo bene quel libro lì rosso ha il disegno della dell'aggeggio quello centrale che c'era in chiusura del capitolo 1 di fortnite nella season 9 e nella season 10 questo vuol dire che è un altro piccolo easter egg riguardante il passato di fortnite e probabilmente qualcosa che potrebbe anche riguardare il futuro si parla spesso e volentieri di avere un ritorno alla vecchia mappa o anche solo di inserirla in un ltm abbiamo visto tanti piccoli dettagli nella storyline e tanti easter eggs in game per quanto riguarda lo scorso capitolo di fortnite questo che vi ho appena fatto vedere non è altro che un nuovo richiamo scoperto da poco e speriamo che magari possa portarci a qualcosa di più chiaro ma voglio vedere insieme a voi adesso il video perché è un po macchinoso ma è molto interessante mentre io ve ne parlo lo vediamo insieme quindi allora innanzitutto come vede dice tu hai bisogno di un amico per iniziare la modalità creativa la vediamo pezzo per pezzo quindi noi facciamo partire una modalità creativa ovviamente avete tutti almeno un amico nella vostra lista ci avviciniamo a questa isola vi blocco un secondo perché dovrebbe essere un'isola di quella di default fashion show state vedendo anche in questo momento il numerino se per caso non fosse chiaro quale sia una volta che veniamo matchati lui ci dice si sicuro che uno che ha startato il matchmaking ha il party pubblico e quindi basta che noi andiamo a vedere in alto dove c'è la rotellina delle impostazioni il nostro party va messo in pubblico e non in privato da qua usciamo e come vedete andiamo l'altro ragazzo mentre il nostro amico deve andare nella modalità arena e premere play quando la nostra schermata nella lobby ci dice pronto dobbiamo gioinare nel game del nostro amico magari la prima volta non può funzionare come avete visto quindi quittate se vi metcia in arena riprovate appena vi dice pronto ready a fare quello che vi ho appena detto e quindi ancora qualche secondo di attesa lui sta matchando in questo momento appena lui matcha gioiniamo dal nostro amico ci dà l'errore ma come vedete ci porta in creativa quindi siamo in questo momento nell'isola di spawn e dall'isola di spawn lui ci dice adesso quando si it says storm ice shrinks quando l'occhio della tempesta si stringe tu devi andare a destra nell'angolo destro della mappa quindi cerchiamo di portarci il più velocemente possibile nell'angolo destro della mappa fino ad arrivare al limite dove c'è il muro invisibile in questo momento tu non puoi più muoverti ovviamente e allora fai semplicemente il respawn facendo il respawn e guardando con la telecamera verso ovest quindi attenzione anche a questo in questo momento automaticamente il personaggio ha passato il muro invisibile e quindi possiamo continuando a respawnare raggiungere l'isola che conosciamo tutti della mappa insomma di questa di questo capitolo una volta che noi siamo arrivati sull'isola considerando che abbiamo ben quattro ore di tempo per la creativa possiamo senza nessun problema e considerando che la creativa dà i punti esperienza metterci con calma e senza nessun avversario completare tutte le sfide necessarie in questo momento stiamo completando una delle sfide di sky ma se andiamo a vedere ad esempio la sfida di tirare un calcio al pallone di farlo rotolare per 100 metri come vedete nel momento in cui la sfida si completa esattamente in questo momento ci vengono assegnati i punti esperienza e quindi ovviamente il livello del nostro personaggio incrementa è un ottimo modo appunto per dedicare del tempo se non volete sbattervi magari a fare le sfide con gli altri avversari per poter appunto livellare completarle e cercare di raggiungere nel modo più rapido il livello 100 ma voglio parlarvi prima di salutarvi di una cosa purtroppo mi sono dilungato e non riesco a parlarvi della storia la indimida la vedremo nel video di domani ma mi sono dimenticato di dirvi ieri che nei file di gioco sono state trovate delle voci veramente molto interessanti la prima si chiama lumpy rug che dovrebbe essere un nuovo tipo di rocket launcher quindi di lanciamissili oppure abbiamo le shaking turtle che sembrano essere delle granate che generano un tornado abbiamo il wumba che dovrebbe essere una nuova stazione per upgradare le armi oppure il cool mammoth che è una macchina per la clonazione non sappiamo a che cosa serva e il chuckle saddle tam che praticamente è un chug stand dovrebbe voler dire una postazione dove si possa fare qualcosa chug potrebbero essere appunto i chug jug non lo sappiamo ma magari chissà insomma ragazzi anche per oggi tutte le news di fortnite io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi i miei canali e adesso mi trovate in live su twitch ciao